Delusione per la pallavolo femminile a Bruxelles, le azzurre mancano la finale degli europei sconfitte dalla Turchia per 3-2. Maddalena Montecucco. Quanti rimpianti Italia per quel quarto set che sembrava nostro e che invece è sfuggito, perché contro la Turchia le azzurre di Davide Mazzanti sono state davvero brave, hanno dominato a lungo la partita. Primo set 25-18, secondo set perso ma solo di due punti, terzo set addirittura ha dominato e poi è arrivato il quarto. Sul 20-20 l'Italia si è fatta sopraffare dalle avversarie e quando è arrivato il tie-break nell'ultimo decisivo set non è più stata in grado di reagire. Noi non volevamo mollare, però loro non ci hanno dato modo di entrare nel quinto set, di spingere. Sono state brave loro in questo, però non possono permetterci di fare questi errori. Peccato perché ora da campionessa in carica ci giocheremo il terzo posto che vale comunque il pass per i mondiali. In finale ci va invece la Turchia, allenata dall'italiano Daniele Santarelli. Complimenti alla squadra, non ai suoi tifosi, che hanno fischiato le azzurre per tutto il match. Un pessimo spettacolo.